Purtroppo altri due decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Sale così a 249 il numero totale dei morti per Covid dall'inizio della pandemia. Scende, invece di 20, il numero dei positivi. Oggi 1.602, ieri erano 1.622, di cui 1.529 in isolamento domiciliare e 62 i ricoverati. I dati per comune 36 ad Acate, 21 a Chiaramonte, 272 a Comiso, 12 a Geratana, 19 a Ispica, 106 a Modica, 8 a Monterosso, 81 a Pozzallo, 392 a Ragusa, 54 a Santa Croce, 68 a Scicli e 460 a Vittoria. Notizia confermata è che il Palaminardi di Ragusa ospiterà il nuovo hub vaccinale e si affiancherà a quello già realizzato all'ex ospedale civile. A renderlo noto il sindaco Peppe Cassì, al termine di una serie di sopralluoghi del comune con l'Asp e la protezione civile regionale e comunale, a seguito dei quali è stato individuato l'impianto sportivo di proprietà del comune come il più consono e funzionale agli obiettivi della campagna vaccinale. Una volta eseguiti i necessari interventi di adattamento, spiega il primo cittadino, daremo comunicazione insieme ad Asp dell'apertura del centro auspicabile entro pochi giorni. Voglio ringraziare continua Cassì la Passalacqua, Virtus Eirene che con il suo presidente Davide Passalacqua ha prontamente e con senso di responsabilità rinunciato all'utilizzo dell'impianto. Intanto, prorogata l'iniziativa, porte aperte in tutta la Sicilia, gli over 60 e i soggetti fragili possono recarsi direttamente, senza prenotazione, all'Hub dell'ospedale civile di Ragusa, in quello di Contrada Beneventano a Modica e nei locali dell'ex Fiera e Maia Vittoria, dalle 8 alle 20, per la somministrazione del vaccino. Da domani invece avvia le prenotazioni anche per chi ha da 50 anni in su. Avviata quindi la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia, annunciata durante una conferenza stampa ieri dal presidente della regione nell'Omusumeci. Dalle ore 20 di domani sarà possibile dunque per tutti i soggetti compresi nella fascia d'età, dai 50 ai 59 anni, effettuare la prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale. Le somministrazioni effettuate con il siero AstraZeneca cominceranno giovedì 13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione.